Salve io sono Pio e bentornati su LEGO Fortnite! Signori come avete visto dalla intro ci troviamo come sempre e come al solito sopra la nostra bellissima scaletta all'interno del nostro fantasticissimo villaggio e come state notando anche a suo giro a quanto pare sono sponato senza torcia o meglio con la torcia in mano ma senza che in realtà ci sia quindi c'ha qualcosa in mano che tecnicamente dovrebbe essere la torcia però la torcia non c'è perché il gioco è buggato in culo fra l'altro a suo giro anche se non c'è la torcia di solito si vede lo stesso l'illuminazione della torcia a suo giro no neanche quello quindi bene devo per forza adesso fare questa cosa magicissima fatta molto molto bene e cioè scambiare di nuovo questi oggetti e far tornare la torcia mi sembra giusto perché il gioco è fatto col culo a mannaggia la miseria comunque signori come avete visto dall'inventario sono tipo tutto strapieno e qui mi segna tutto zero perché? che mi segna tutto zero? vabbè c'è la roba dentro ma non capisco perché mi segni zero comunque signori stavo dicendo come avete visto ho l'inventario pieno perché se vi ricordate nello scorso episodio siamo andati alla caccia di un fottutissimo brutto affinché riuscissimo a prendere una cazzo di squama per poter poi migliorare il tavolo da creazione e fortunatamente dopo mille mila anni ce l'abbiamo fatta e ovviamente al suo giro in questo episodio dobbiamo andare a migliorare il banco da creazione però ovviamente ho l'inventario pieno perché non ho levato un cazzo essenzialmente quindi lo sto facendo adesso ora io direi che mettiamo le robe un po' alla cazzo nel senso che comunque sì ok il cibo va bene però non è che manco devo stare proprio attento a mettere le cose come si deve cioè ad esempio per dire queste cose le potrei prendere e potrei lasciare per dire questa magari lascio pure se tre pannocchia questa me la mangio e vaffanculo per il resto che cazzo c'è da lasciare c'è tipo da lasciare la verga di legno flesso ed il legno flesso o verghe di legno flesso ovviamente non le posso mettere ma ci prendiamo le lastre perché tanto adesso ci serviranno quindi mettiamo la verga di legno flesso qui non mi ricordo di preciso quanto ce ne servono bisogna 25 ma vabbè sti cazzi non importa andiamo a vedere dove abbiamo le cose ok le cose rare e stanno qua la balestra dove cazzo me la metto me la metto nel culo me la metto la balestra nel culo non lo so non so se sia una cosa bella mettersi la balestra nel culo potrebbe fare un po' male mettiamola qui aggiungiamola agli altri tanto la balestra comunque che abbiamo nell'inventario va ancora più che bene qua cosa c'è da lasciare ci sono da lasciare queste poi c'è il granito di cui sinceramente me ne sbatte abbastanza il cazzo granito che non posso mettere qui lo metterò qui non lo posso mettere qua ce lo teniamo nell'inventario tra l'altro già che ci siamo prendiamoci pure sti 48 di legno perché sapete com'è dovessi costruire qualcosa non ho legno quindi mi attacco un po' al cazzo ora comunque signori come vedete ho una squama di bruto per l'appunto la lasciamo esattamente qui queste le sistemiamo qua io qua direi che è pure il caso di mangiarci qualcosa perché prima ho sentito il rumorino di quando abbiamo fame e ho visto manzo boss che ha attaccato qualcuno meglio più che visto l'ho sentito solo che non so chi nel senso se avesse attaccato qualcuno tecnicamente dovrebbe lasciare le ossa lì cioè se tipo c'era uno scheletro ma no quindi chi cazzo ha attaccato boh vabbè ho sentito il rumore come se avesse attaccato qualcuno ma a quanto pare no facciamo finta di nulla facciamoci i cazzi nostri ah ok le ho prese le ossa e da dove è uscito lo scheletro ma scusa ma non l'ho capita sta cosa oh cazzo ah no niente ok stavo dicendo guardate hanno sistemato quelli là che dormono dormono tutti bene in realtà solo se stai lontano cioè se tipo vado più lontano magari se è giusta anche quella quella no quella proprio ha deciso che deve stare proprio così fatta a cazzo ok adesso si è sistemata però niente vabbè quando ti avvicini si sminchiano poi tutti così in piedi nel letto completamente a caso ma io non lo so perché è tutto sminchiato sto gioco ma vabbè non hanno fatto neanche altri aggiornamenti ma perché tutto sminchiato a caso comunque signori andiamo sul banco da creazione facciamo aggiornamento sul campo e vediamo che ci servono 25 lastre di ossidiana 15 lingotti di rame e una squama di bruto quindi io direi che ci andiamo a prendere i 15 lingotti di rame e ci teniamo giusto le 25 lastre di ossidiana le altre le lasciamo che tanto non ce ne facciamo un cazzo quindi facciamo così dividi ne dividiamo 5 queste qua le mettiamo insieme queste le mettiamo a posto ok comunque ah no ok queste sono ossidiana normale queste sono lastre vabbè lasciamo stare facciamo finta di niente sono stupido prendiamo questi lingotti che facciamo anche qui dividi ce ne servono solo 15 quindi facciamo 4 ok questi 4 li lasciamo questi 15 ce li prendiamo queste ossa sinceramente non lo so c'è uno spazio c'è uno spazio per delle ossa mettile qua non me ne frega un cazzo poi si vedrà ah ho visto delle cose qui ci sono delle assi di legno così a caso non me ne faccio assolutamente nulla comunque signori dopo mille mille anni finalmente possiamo upgradeare il nostro banco da creazione incredibile non so cosa ci sbloccheranno lo so minimamente suppongo il deltaplano perché ho visto che si poteva fare il deltaplano non l'abbiamo ancora sbloccato quindi suppongo si possa fare il deltaplano ma adesso vediamo fra l'altro adesso si potenzierà scusate ad epico quindi suppongo si è l'ultimo potenziamento però staremo a vedere comunque facciamo potenzia il nostro amico frizz qui si mette un po' a lavorare sta battendo sul non so cosa sta avvitando cose sta facendo cose sul nulla e abbiamo fatto il potenziamento tra l'altro abbiamo sbloccato un obiettivo così a caso comunque se facciamo usa banco da creazione ok a quanto pare nella parte alta non c'è più praticamente il potenziamento quindi questo è l'ultimo potenziamento che si può fare ok allora io qui vedo una cosa particolare cioè che stiamo su l'ascia quella lì forte in culo e ci vogliono tre lingotti di là e tre verghe di noto torto mi sembra un po' strano cioè a me non dispiace però è un po' strano che servano le verghe di noto torto cioè mi sarebbe aspettato almeno legno flesso o qualcosa di freddo pino vediamo il piccone ecco vedete il piccone ad esempio servono le lastre di ossidiana e va bene però servono anche cinque verghe di freddo pino che ovviamente poi dobbiamo andare a prendere purtroppo nella zona molto molto fredda tra l'altro da notare come si interessino a fare le cose principali tipo lascia il piccone poi tipo il badile hanno detto sti cazzi chi se ne frega non le facciamo anche la canna da pesca rimangono al massimo rare ma epiche un cazzo vi attaccate ma vabbè facciamo vinta di niente per quanto riguarda le armi essenzialmente la stessa cosa cioè non se ne sono sbattute assolutamente un cazzo per quanto riguarda il fare balestre o altro proprio zero proprio nulla va bene poi abbiamo sbloccato probabilmente qualche muleto cioè forse l'amuleto a mente fredda che questo qui aumenta la resistenza alle alte temperature che sarebbe l'amuleto a mente fredda però raro noi avevamo già un amuleto a mente fredda o sbaglio eccolo infatti avevamo quello non comune adesso abbiamo quello raro ok quindi abbiamo sbloccato l'amuleto a mente fredda raro che si fa con filo di lana pesante guscio di ghiaccio che cazzo è un guscio di ghiaccio credo siano quei gusci di quei cosi che rotolano di merda che però si trovano nel bioma freddo ok una scuoma di brutto delle sabbie ok qua me lo specifica che ci vuole un brutto delle sabbie grazie a dio cazzo l'altro me lo potevi specificare che era un brutto delle spiagge un brutto della pianura Cristo poi serve una lastra di malachite malachite io non ho idea di cosa sia comunque vediamo cos'altro ci ha sbloccato allora questo tecnicamente già ce l'avevamo amuleto a resilienza dell'ondata rigenerazione della salute ok forse ci ha sbloccato dove cazzo sta l'ho perso di vista ok l'amuleto della salute è raro probabilmente perché io mi sa non c'ho quello raro c'ho quello lì non comune credo fatemi vedere un attimo non era quello che volevo fare era non era assolutamente questo ok no gli amuleti della salute rari quindi che cazzo abbiamo sbloccato ho visto che aveva sbloccato un'altra cosa ma non so cosa vediamo totem coreaceo quando si ha il massimo di salute ottiene salute bonus dopo qualche secondo questo già ce l'avevamo amuleto della salute dell'ondata a mente fredda totem dell'immortalità consente la rigenerazione dopo aver subito danno letale no che questo già ce l'avevo però si autodistrugge dopo l'utilizzo ma io questo già ce l'avevo era questo il totem coreaceo quando si ha il massimo di salute ottiene salute bonus dopo qualche secondo no forse il totem coreaceo è quello che abbiamo sbloccato adesso per il quale mi servono tre squamiti brutto non penso che lo faremo mai sti cazzi assolutamente per nulla amuleto della resilienza ok roba che avevamo già ok tutta la roba che avevamo amuleto riflettente è l'unico epico restituisce una moderata quantità di danni all'attaccante sti cazzi anche se c'è da dire comunque che è uno di quelli che ci dà più roba perché qua ci dà 4 cuori e 10 di difesa e altri che fanno le stesse cose quali sono l'amuleto ambiente fredda per dire aumento della resistenza alle alte temperature ok amuleto del fuoco interno invece ecco già l'amuleto del fuoco interno per dire ci dà 7 di difesa però ad esempio c'è l'amuleto dell'ondata che anche fa la stessa cosa ok ok dai diciamo l'amuleto della salute è quello un po' più scarso a quanto pare ci dà 3 cuori e 5 di difesa quindi dobbiamo aggiornarci un po' sotto questo punto di vista vediamo l'amuleto dell'ondata oddio 20 verghe di freddo pino e il flopper blu che porca puttana potevano pure evitare di mettere i pesci nelle ricette Cristo però il flopper blu si potrebbe anche andare a pescare non dovrebbe essere troppo complicato fare un amuleto dell'ondata anche se poi alla fine aumenta la velocità di nuoto a me non me ne frega assolutamente un cazzo però comunque 4 cuori e 10 di difesa è come l'amuleto epico che a me schifo non fa se vorresti fare l'aumento cioè scusate l'amuleto del fuoco interno che aumenta l'esistenza delle basse temperature che comunque ci servirà per quando andiamo nella zona fredda comunque lo posso fare sono 4 cuori e 7 di difesa e mi richiede roba che è bene o male ciò o che comunque posso fare corlucente ne abbiamo filo di lana lo possiamo fare rubino in tagliato abbiamo il rubino normale lo possiamo fare in tagliato non ci sono problemi nuclei esplosivi ok 3 noi tecnicamente ne abbiamo 10 se non sbaglio quindi potremmo farne anche 3 di questi amuleti se invece volessi fare l'amuleto a mente fredda ecco già diventa un po' più complicato quella squama di bruto delle sabbie sinceramente io starei benissimo con l'amuleto a mente fredda questo qui non comune che è molto più facile da fare sti cazzi quindi si oddio che poi l'amuleto riflettente comunque filo di lana e vetro non è difficile è soltanto suo flop per venganza se 10 pesci me ne servirebbero 30 io non so quanto sia fattibile trovarne 30 quanto sia facile però di per sé a parte i pesci non dovrebbe essere particolarmente difficile da fare quindi non sarebbe male però c'è da dire comunque l'amuleto a mente fredda bisogna farlo cioè scusate del fuoco interno bisogna farlo quindi questi qua ce li dobbiamo fare per forza o almeno uno ce lo dobbiamo fare perché sicuramente nella zona fredda ci serviranno comunque per il resto devo dire sono rimasto abbastanza deluso nel senso abbiamo il rampino busso da sopravvivenza ok dovremmo avere in qualche modo tipo il deltaplano che però non abbiamo e io ci domingo un po' male se devo essere sincero perché con il deltaplano porca puttana la dobbiamo smettere però dicevo con il deltaplano effettivamente io posso tipo sfruttare per dire i geyser che ci sono all'interno del deserto o comunque posso fare delle piattaforme di salto e lanciarmi e andare un po' più veloce all'esplorazione perché comunque poi vado planando volo praticamente e senza altro è meglio però niente non me l'ha sbloccato a meno che io non debba creare qualcosa tipo che cazzo ne so magari essendo un deltaplano mi serve del tessuto magari devo fare del filo di lana tramite la lana e quindi mi chiede poi di sbloccare le altre ricette fra l'altro io sto notando che per dire non ho manco la ricetta del filo di lana pesante cioè giusto per dirne una quindi io tecnicamente non ho mai fatto neanche il filo di lana pesante quindi sono tutte cose che devo scoprire come si sbloccano eventualmente perché a sto punto io non posso potenziare più nulla cioè di tutta la roba che ho i potenziamenti li ho fatti o meglio alla fine solo il banco da creazione si poteva potenziare perché se andiamo a vedere le altre cose tipo la segheria non si può potenziare il grill nemmeno lo spaccapietre mannaggia la puttana ho parlato con la tizia non mi interessa ciao addio spaccapietre non si può potenziare questo qui l'abbiamo appena visto l'arcolaio non si potenzia questa roba qui nemmeno fra l'altro rubino intagliato che io ho fatto ma sto stronzo di pece secco continua a non darmi il rubino intagliato ma solo l'ambra intagliata maledetto qua ci abbiamo una magina ci abbiamo levati al cazzo manzo boss ci abbiamo lo spremitore ok non si può potenziare questo non si può potenziare queste sono le ultime cose che abbiamo fatto di certo non hanno potenziamenti ma mi sembra anche abbastanza scontato e niente quindi non posso potenziare un cazzo per quanto riguarda le cose da costruire ho costruito pure tutto per quanto riguarda i macchinari più che altro quindi comunque di potenziamenti non ne posso più fare quindi non ho più un cazzo da fare essenzialmente l'unica cosa sarebbe tipo andare a esplorare il bioma freddo trovare quella cosa che si chiama malachite e il freddo pino che magari prendendo freddo pino e malachite vi levate tutti dal cazzo diosanto tutti qua in mezzo guardali degli idioti guarda che mi fissano ma questa è proprio stupida comunque cristo che fastidio comunque per l'appunto stavo dicendo mi sa che l'unica cosa sarà andare per l'appunto all'interno del bioma freddo prendere del freddo pino e prendere soprattutto della malachite se la riesco a trovare suppongo sia qualche roccia che si trova all'interno delle caverne del bioma freddo e mi sbloccherà eventualmente qualcos'altro perciò mi sa che nel prossimo episodio andiamo a fare proprio quello io direi che intanto per il momento abbiamo fatto quello che dovevamo fare cioè il potenziamento del banco da creazione certo avrei preferito poter fare anche qualcos'altro ma a questo punto sti cazzi tanto comunque penso di aver registrato quasi 15 minuti se non effettivamente 15 minuti perché il tema è appena suonato alla fine non dovevamo fare chissà cosa anzi non abbiamo fatto proprio un cazzo io direi che più che altro adesso ci andiamo a ricostruire questo muro che io avevo rotto e la cosa mi dà tanto tanto fastidio e per ricostruire questo muro mi ricordo chiaramente che dovevo fare un muro da 4 che non si trova qui ma si trova qui no assolutamente si trova qui ok devo fare questo muro lo devo girare devo metterlo qua poi devo fare quest'altro muro che era da 2 credo sapete che non lo so che dovrebbe essere questo da 2 esatto e poi dovevo fare gli spuntoni che stanno sopra spuntoni che stanno sopra che boh dove cazzo dove stavano sostegni no forse su tetti forse stavano su tetti stavano su tetti ok quindi devo mettere lo spuntone qua e poi lo spuntone questo grande matto pazzo matto rotto in culo lo devo mettere qui ok non c'è uno spuntone da 1 non c'è uno spuntone da 1 quindi lì all'angolo rimarrà un po' e vabbè perché il gioco è fatto bene ovviamente comunque signori niente quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto cioè essenzialmente migliorare il banco da creazione e vedere cosa ci sbloccava speravo mi sblocchasse qualcosa da poter costruire adesso ma non c'è un cazzo anzi guarda giusto perché lo possiamo fare perché se non sbaglio per l'appunto lo possiamo fare lascia mi servono 3 lingotti di rame e 3 verghe di nodo torto ora nodo torto sapete che io non so mica se ce l'ho oh sì ovviamente ma c'era un bordello ma c'ho più verghe di nodo torto che nodo torto in sé prendiamoci questi 3 prendiamoci i lingotti di rame facciamo dividi lasciamone giusto uno ok dammi sti qua lasciamo pure sta roba visto che ci siamo perché tanto non me ne faccio un cazzo a tenere l'alimentario e anzi in realtà mi dà molto molto fastidio tutta sta robettina questa roba va qua questa va qui questa va così questa va qua e mi serve un'altra cesta porca puttana oh porco il cazzo come devo fare e tutta questa merda dove la metto letteralmente questa merda oh porco il cazzo c'era una cesta vuota sì mi ricordo che c'era una cesta vuota vabbè facciamo finta che sia vuota questa questi cazzi ok abbiamo preso le cose per fare essenzialmente lascia vediamo se magari facendo lascia ci sblocca qualcosa tra l'altro è diventato enorme il banco da creazione cioè porca puttana è diventato altissimo carino senz'altro rosso così molto più bello di quello di prima verde che faceva cagare tre verghi di nuovo torto però io sono abbastanza sicuro di averle prese comunque dicevo come ambientazione cioè come ambientazione come design è diventato molto molto più carino questi cosi comunque prima non c'erano sono usciti dal nulla vabbè facciamo finta di nulla prendiamo se tre verghi di nuovo torto maledizione andiamo qui al banco della creazione facciamoci lascia che vabbè fortunatamente è facile da fare suppongo che sia con quest'ascia che poi dobbiamo andare a usare o meglio dobbiamo andare ad abbattere il freddo pino altrimenti non penso si rompa vediamo l'ascia com'è ed è carina dai perlomeno c'ha un design una skin diversa di tutte le altre asce visto che le altre asce sono tutte uguali praticamente cambia solo quella di legno flesso cambia il colore che diventa verde per il resto non cambia un cazzo almeno questa qua c'ha un design diverso certo vai a vedere l'impugnatura non mi sembra di un nodo torto vai a vedere la lama non lo so mi sembra più di ferro o comunque di acciaio e non certo di rame però vabbè facciamo vinta di nulla giusto per curiosità c'è un albero vicino così lo abbattiamo c'è quello lì sopra oddio c'è anche quello grande lì assoluto andiamo dall'alberone grande vediamo quanti colpi servono per abbattere un alberone grande vabbè questo qua piccolo penso che lo sciocchiamo ci sono abbastanza sicuro facciamo così no? due polpi ok due polpi quindi suppongo che quello grande ne serviranno più o meno 4 barra 5 almeno credo non lo so è una supposizione però dovrebbe essere così vediamo 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 oh ma c'è un brutto delle sabbie ma il secondo ma come cazzo è? ma i brutti delle sabbie spuntano così dal nulla ma scusa ma i brutti del cazzo di come cazzo si chiamano delle cose di merda delle pianure vaffanculo non mi veniva i brutti delle pianure per trovarne uno sono andato in culonia qua invece nel deserto ce n'è uno qui uno dall'altra parte dietro casa porca puttana allora sono stronzi o sono stronzo io non lo so manzo boss fatti i cazzi tuoi una volta che devi fare i cazzi tuoi che devo che è successo? ma se ne è volato manzo boss me ne sono volato io e l'albero se ne sta andando a fanculo ok va bene ma comunque veramente stavo dicendo fatti i cazzi tuoi scusa hai la spada usa la spada per attaccare il tizio non attaccare l'albero che cazzo fai? uno due tre ok tre colpi e a quanto pare resiste anche parecchio eh a quanto pare è bella resistente questa ascia non gli ha fatto male assolutamente sono piacevolmente sorpreso e a dirla tutta in realtà se non sbaglio potremmo mettere anche l'incantesimo di durevolezza che se non ricordo male non è neanche così difficile da mettere andiamo a vedere subito giusto per curiosità e poi eventualmente chiudiamo l'episodio certo se il mio personaggio magari iniziasse a correre beh non dispiacerebbe perché va un po' lentino però vabbè che è successo a sto muro? perché sto muro è così? ho sbagliato muro? non era questo? guarda ti abbatto subito ovviamente non con l'ascia nuova perché giustamente il gioco è fatto col culo entriamo da lì rimettiamo questo muretto qua che a sto punto devo capire quale cazza role è ok muri 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 non è questo e questo qui ecco ho sbagliato io sono stupido lasciate stare adesso è giusto? esci qua esci apri ok adesso è giusto vaffanculo che è successo? ma io ero già passato vabbè facciamo finta di nulla ha deciso che si deve incastrare nelle porte facciamo finta di niente mettiamo questa qui allora senza di danno non ci prega un cazzo senza di salute che è quella lì che ti dà più durevolezza no mentre la probabilità scusate che creature e nemici lasciano oggetti curativi usando armi e strumenti non prega un cazzo senza di durevolezza eh l'astra di granito è uno di ambra grezza sti cazzi è facilissimo da fare ma sai che tre sensi di durevolezza le possiamo mettere tranquillamente anzi ti dirò di più ma ti dirò proprio tanto di più tanto non ci vuole un cazzo a farli guarda giusto per fare qualcosa proprio in questo episodio ambra grezza io dovrei averlo qui da qualche parte mi sa in qualche cosa qui ne ho una vabbè adesso ci andiamo a prendere altri due sti cazzi l'astra di granito ne ho 20 qua dovrei avere comunque le altre e così infatti facciamo così prendiamocene 30 lasciamo le 20 io da qualche parte credo di avere altra ambra grezza però sti cazzi tanto ce l'abbiamo qui dietro ce l'andiamo a prendere molto molto velocemente però se il mio personaggio corresse magari sarebbe leggermente meglio andiamo a vedere pure per curiosità se c'è ancora lo stronzo qua dietro perché poi cioè sai com'è io bestemmio un po' se mi trovo due bruti dietro casa due bruti delle sabbie e poi i bruti normali non si trovano bastardi infami allora uno stava di là un altro dovrebbe stare da queste parti che a quanto pare non c'è che cazzo è quella cosa ah è un lupo non stavo capendo e vabbè niente facciamo finta di nulla come non detto non c'è più il brutto qua ha deciso di trasferirsi un po' più in là o magari lo stesso che si sta facendo una passeggiata chi lo sa facciamo finta di nulla facciamoci i cazzi nostri comunque ok ho preso l'ambra grezza ne ho 5 pezzi sinceramente basta non avanzano guarda il lupo quanto è ritardato ho fame ovviamente come sempre dove cazzo sto andando devo andare da questa parte anzi i giochi ci sono in realtà mangiamo perché tanto adesso andiamo a cadere qui scivoliamo no in realtà non scivoliamo è abbastanza basso entriamo qua in casa manzo boss lo chiudiamo tranquillamente fuori sti cazzi tanto così te le trasporterà e ci andiamo a mettere sti bei 3 di durevolezza sopra la nostra bellissima nuova ascia quindi essenza di durevolezza facciamo applica essenza ci metterà i suoi 3 anni grandissimo fammi tutta l'animazione che ci mette 3 anni a levarsi grande molto 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 interessante ok va bene essenza di durevolezza grande vuoi vedere che io non ci ho pensato ma scusami sto notando una cosa la mia spada quella più forte che posso fare al momento che è questa e purtroppo altre a quanto pare non ne posso fare probabilmente si sbloccheranno magari quando prendo malachite ferro o altri materiali almeno spero però al momento dico questa spada mi fa 7 di danno e a ben vedere quest'ascia mi fa 7 di danno quindi teoricamente quest'ascia io la potrei usare sia per il legno sia per attaccare ora lo farò non credo perché preferisco usarla solo e soltanto per abbattere gli alberi visto che adesso abbiamo anche 3 di durevolezza almeno non mi devo fare altre 40 acce me ne basta portarmene una però però al momento almeno che non mi sblocchi tipo una spada che mi fa 10-15 di danno questa non sarebbe male comunque signori prendiamo questa roba che è rimasta qui giusto per curiosità visto che comunque sti tizi di solito ci parlo all'inizio del video non ci ho parlato quindi vediamo che cazzo ci abbiamo vabbè ovviamente la solita roba così almeno svuotiamo un po' i loro inventari e la prossima volta che accedo mi da altra roba tra l'altro qua ambra è tagliata maledetto non mi da mai il rubino lei mi darà tanto buon cibo ti prego dammi delle uova che sono tanto tanto buone vabbè torta di zucca pasticcio di carne torta di frutta guarda tutto benissimo due uova le potevi le potevi scusate fare due uova a me non dispiacevano assolutamente vabbè sti cazzi come va la tua mansione vetro lingotti di rame ok si è riempito pure l'inventario signori signori sti cazzi io direi che mi svuoto un attimo l'inventario e ci salutiamo perché sinceramente in questo episodio quello che dovevamo fare un tipo soddisfatto così ma proprio veramente tantissimo soddisfatto se devo essere sincero finalmente non abbiamo più problemi nel doverci cercare quel cazzo di brutto di merda per fare l'upgrade non dobbiamo più cercare un cazzo per fare l'upgrade e a sto punto direi che nel prossimo episodio ci facciamo una piccola preparazione per andare nei luoghi freddi visto che ci dobbiamo fare comunque vi ricordo gli hamburger per resistere alle zone fredde che sono questi qui gli hamburger piccanti poi ci dobbiamo fare anche l'amuleto perciò ci facciamo una piccola preparazione poi andiamo ad esplorare i luoghi freddi e vediamo che cazzo troviamo fra l'altro io sto indicando da quella parte ma mi sa che i luoghi freddi cioè la montagna è tipo da quella parte ma vabbè lasciamo stare comunque mi posiziono sulla nostra bellissima scaletta e facciamo l'outro ok signori mi sono posizionato qui sulla nostra bellissima scaletta che non ho mai finito e non finirò mai comunque signori per il video di oggi è tutto se vi è piaciuto vi invito a mettere like se invece non vi è piaciuto mettete dislike ma commentate dicendomi cosa non vi è piaciuto in modo tale che possa migliorarmi se vi sto simpatico iscrivetevi magari attivate la campanella che a me come al solito non dispiace mai e noi ci vediamo nel prossimo video ciao